E' l'ora di cena, è l'ora di cena, però una battutina veloce, come la prima partita di Sordio, contento, va bene così, l'ambiente tranquillo, eh? Portierone? Grande, anche lui, anche lui, sono stati veramente due portieri. La prima sconfitta va bene comunque. Va bene, è da gustarsi anche quello, è stata una bella partita, quindi si può divertire. Sarhan, difficoltà, insomma, penso la partita più difficile della storia questa. Eh? Vi siete divertiti come primo esordio? Sì, sì, ci siamo divertiti. Quello che conta poi alla fine? Bomber sono io. Bene, il bomber, il numero uno. Il difensore che segna. Vi siete un po', anche se siete contati, comunque vi siete divertiti ugualmente. Va bene, allora, Cantone, diciamo, ci siamo un po' alla fine. Bene, bravi ragazzi. Sì, è stato un bel esordio per i corsari. Rial Tunisia, fortissima come sempre, ci avevo già giocato contro, sono fortissimi. Ci siamo divertiti, esordio con Fiocchi, siamo partiti lenti, non si riusciva a ingranare, ma direi che alla fine è andata bene, quindi alla prossima. Grazie e complimenti. Grazie a tutti.